I cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie case per l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna a inizio maggio possono chiedere il contributo di autonoma sistemazione. Gli importi in base al numero dei componenti del nucleo familiare vanno da un minimo di 400 a un massimo di 900 euro al mese, contributo che viene aumentato di 200 euro per ogni persona di età superiore ai 65 anni o con indisabilità o con invalidità e non inferiore al 67%. La domanda va presentata entro il 30 giugno presso il Comune della Casa Sgomberata e può essere consegnata a mano o spedita tramite raccomandata. Grazie a tutti.